bentornati in questo video in questa serie in questo tutto bentornati bentornati prima di iniziare ricordatevi che perché sto parlando ricordatevi che potete mettere mi piace al video se vi piace lasciare commenti iscrivervi a tenare la campanellina se non vi piace questo video ne ho tanti altri sul canale quindi qualcosa che vi piace sicuramente c'è detto questo andiamo avanti la loro patria avvia non potevo fare nulla generale camos è morto e tu stai per raggiungerlo puoi almeno consegnarmi l'esercito che mi hai promesso il passaggio verso il regno degli inferi sta per aprirsi e sai bene stanno viaggiando lungo la costa ora saranno qui a momenti proverò a raggiungerli per convincervi a fare più in fretta che devo fare continua a far scavare gli uomini se raggiungono l'oltre tomba prega di riuscire a respingere ciò che ne vogliesce fino al mio ritorno gli esploratori hanno avvistato amarra e chiruni hanno i pezzi di osiride con loro chi ne è di arkansas nessuna notizia signora si sta facendo tardi avviamoci e speriamo che arkansas arrivi in tempo invia il segnale ecco il segnale è quello che stavamo aspettando dobbiamo portare tutti i pezzi di osiride vicino alla piramide solo allora risorgerà ma ovviamente non sarà così facile allora granaio tu vieni qua e mantieni posizione tu poi poi invece noi siamo messi ovviamente senza oro va bene allora cominciate a costruire case voi va app app new idea app new idea new idea app new idea app app yes in which app Fate questi, andiamo avanti, adegniamo la posizione, e qua invece ci chiudiamo. Ah, bene, skip in quattro adesso. Allora... 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 Qua suona in di meno. Ok. Ok. Invenzione. And you. E c'è anche del cibo. Altri cittadini. Uno meglio di niente. Allora... Molto bene. Oro. Fate oro. Qui. Non è che ne abbiamo tanto di oro. Tornate nelle retrovie. No! Mi è morto il faraone! Io, gioia! Io, gioia! Io, gioia! Allora, io dovrei costruire... Vieni qua, fai un mercato, allora sono almeno 3, quindi 1, 2, 3 e potenziamo. L'ho dimenticato. 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 Vieni qua. Torna qua. Vieni qua. Ok. Come siete messe? Ancora presto. L'ho dimenticato. Allora. Allora. L'ho dimenticato. 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 stavolta invece andiamo su orus per via dei potenziamenti alla fanteria cosa che io adoro e tu torre di satrus e poi lo fai e e e e legna arte della legna direi che abbiamo ratto anche questo il legno il legno il legno il legno il legno è attenzione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di prepotenza fare del legname. Che cosa è successo? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo scoperto un nuovo luogo. No, sei buono. Uh, cibo. Cosa fai? Non mi serve. Allora... Babbuino. Coraggio. Abbiamo trovato una riserva. Si girasse. Carne di simmia. Carne di babuino. Direi che possiamo vendere abbondantemente. Vendi, 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 vendi. Ok. Ok. Bene. Dobbiamo arrivare alla piramide. Sì, no. Con molta calma e delicatesza. Qui abbiamo... Qui abbiamo del loro. E questa... Non mi serve. Ok. Allora... Allora... Si respira... allora. Ah, giusto. Grazie a tutti. 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 Oh, è... Grazie a tutti. 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 Dove sono finito. You are here. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e... buon appetito direi che facciamo anche fare così e così liberiamo posti i sacerdoti di Anubis gli stm indossavano maschere da sciacallo durante il rituale di mummificazione Anubis era una delle divinità più antiche della mitologia egizia e il suo ruolo si è modificato con l'evolverso dei miti passando da quello di Dio dell'Oltretomba a quello di Giudice dei Morti dopo aver ceduto il suo precedente ruolo a Osirid l'associazione di Anubis con gli saccalli era probabilmente dovuta alla presenza dei saccalli che si aggiravano furtivamente nei cimiteri interessante ci siamo quasi nel senso potessi creare più Anubis più velocemente sarei più contento però nel frattempo chioggia guarda come aumentano la loro velocità bravi bravi non serve più non serve più non serve più potrei anche lasciarle ma rovinano il paesaggio mi piace più la terra arida e pulita non serve più Grazie. Magari. Magari no. Ah, vedi, là c'è dell'oro. Cosa che io non ho, ovviamente. Ok. Amici. Ah, che stavo facendo? Ah, sì. Bene, mi rimangono due poteri da utilizzare. E' nito. E' nito. E' nito. E' nito. Iniziamo a creare i presupposti. Ragazzi, avete un po' di bronchite. Ragazzi, avete un po' di bronchite. E' nito. 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 Grazie a tutti. Va bene, stiamo tutti molto calmi e sereni. Loro avranno unità mitica, noi avremo unità mitica, è molto semplice. Loro avranno unità mitica, noi avremo unità mitica, è molto semplice. Che succede? Tornate qui. Molto bene. Siamo quasi, eh? Siccome non lo potrò usare... Usiamo il potere da un'altra parte, a questo punto. Qua. Vieni qua, dai, avanti. Vabbè, tanto ormai sei morto. Ok, usate tutti i poteri divini, quindi l'attacco finale... Poi... Voi tagliare... E così... 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 Coraggio ragazzacchi... Coraggio ragazzacchi... Mi stavo dimenticando dei pesci di Osiride... che ero? Un'altra parte... E così... Vi kiedy... Arrivederci, poi abbiamo. Uh, c'era della carne qua. Ma pensa... Ah, tra-ta-ta... Così... Così... Però per il momento continuate... C'era la carne qua. Grazie a tutti Ok Non mi serve però va bene Stiamo attenti Con calma Allora tu vieni qua Tu vieni qua Voi venite qua Qui, dietro, avanti Voi farete parte Dei loro Stiamo impazzendo Dai, avanti Ok Su Vieni Ci siete rimasti a fare voi qua Ah beh Sono nati dopo Giusto, giusto Ok Allora Avanti All'attacco E voi Provate a venire qua Dai Ok Ok Mi sono sufficienti Dai Uno E Dai Dai Due Tre Qui qua Coraggio Sono in posizione Oh Molto bene Tutti i pezzi sono qui Perché non succede nulla Ci vuole un po' Beh Cerca di accorciare i tempi Mi fa piacere Mi fa piacere trovarvi tutti riuniti qui Appena in tempo E sono felice che abbiate portato con voi i pezzi di Osiride Ci credete ora? Non succede nulla Il vostro dio è morto Cosa? Nooo Sono venuto sulla terra e mi ho preso possesso con le mie sole forze Largarensis è ancora vivo Forza! Troppo tardi C'è un'altra porta verso nord È là che si sono diretti Sì Nella mia patria Trovaci una nave a Marra Eh va bene Si è bloccato tutto? Che è successo? Ah ok Allora Si è bloccato il mouse Venuto campagna Molto bene Anche questo nuovo episodio è terminato Il che significa Che Ci vediamo alla prossima Direi Che potete A questo punto Spolliciare il video Spolliciate Ciao